A proposito di leoni, dice che in questo periodo i leoni si accoppiano più di 50 botti al giorno, incominciano, poi si riposano e poi re incominciano. A proposito di leoni, dice che in questo periodo i leoni, dice che in questo periodo i leoni si accoppiano. Amore, ma quindi io sono il tuo leone, perché prima incomincio e poi mi riposo. Sì, però tu incominci dal riposo. Vabbè, però poi ricomincio. No, ma da tu ormai!